Iniziamo a capire che cosa vuol dire essere anti-europeisti. Oggi essere anti-europeisti vuol dire essere contro le minacce di Schoble e di Juncker che probabilmente hanno influito molto sul voto inglese, essere contro a delle politiche che portano a avere il record del debito pubblico in Italia, il record della disoccupazione giovanile. Ecco, queste cose poi si riflettono sul disagio e la gente come può risolvere il disagio? Quando può votare si esprime e vota.